Patrizio, sei emozionato? Beh, è da pure ecco che sei sempre emozionato, anche perché solo tre lo fai, è il terzo questo, mi diceva avvenzato senza tre, poi arriviamo a maestro, non vado, non vado, non vado, non vado, non vado, non vado, non vado. Qual è il? Forse è anche il flusso di Chiulti, comunque già il secondo sanno era stato ottenere, è nulla, no, è solo un po' di Chiulti e è stato un po' di posto da portare perché avevamo un capello, avevano fatto vedere tutto. Cosa è successo? Salute? No, sufficientemente un po' di colpiditale, a mia carne ad un'alima di un po' di pace, purtroppo ho deciso di terremiore questo motore, come dire su che riesco a mandare? quando si è presentato il problema? quando precisi, ho stato setteggiando quando mi scopo presento che stagione? stiamo in un corso in Italia, un corso per saltare è tutto è un'ultima di un anno fa è l'ultima di una serie? si, oppure la fissura sul dettaglio del semefronosa due anni fa legamento della camicia è l'ultima di stare a parlare di questo si, si però, purtroppo, è un equilibrio, è un equilibrio, è un equilibrio anche lì, è un equilibrio lì, poi, sempre legamento della camicia all'interno legamento assieme adesso, qui, non è un equilibrio, è un equilibrio non dimentichiamo che è un ruolo si è dimesso si è dimesso da responsabile di santo nazionale per seguire me questo è una cosa buona nei quindici anni che lavoriamo insieme mi ha preso che ero atleta negli anni di tre negli anni di tre io, penso, non ciò, non ciò mi ha preso, non ciò non ciò perché pensavo che fosse a trentina 20-30 ma io non ho preso 27-20-30, guarda ancora di 30, diciamo sono pronto il 17.25 il 17.25